Cercare di beffare, fuoco, poi Galimberti sulla maschera, 5 e Tamborindeghi va, e poi la parata, adesso Galimberti arriva Zucchetti per Tamborindeghi, ora Mogiano troppo leggero, c'è il raddoppio di Tamborindeghi e ancora con la punta. Spero che all'argomento finisca per condizionare, ecco attenzione, c'è la miglietta, Zucchetti che riapra per Bielsa, c'è Tamborindeghi in mezzo, Bielsa la traversa, per Tamborindeghi, dentro, una, la palla è lì, la salva sulla riga. Goll, gran gol di Pambielsa, 1 a 1, scesa e palla sotto l'incrocio. E palla il gol, e poi arriva, Rufa! Ah, un voletto, arriva Galimberti, questa giocata che però sembra di Tamborindeghi! Consiglio su Prince, è gol di Tamborindeghi! Piero e Zucchetti, a lontano, riesce a tenere l'opposso, poi va Galimberti, per la porta, il giro a Michele se lo fa bene, lo scarico, poi prendo lì, il passaggio non era per lui! Paglia a Monsa, Bietti centrale! Gaffioli ha canciato da dietro, fischia, Tamborindeghi la palla, esce di mezzo metro a Bielsa, abbastanza velocemente, e lo fa Galizucchetti, e la spizzata di Tamborindeghi! Molte bene schiavo, va andare a Monsa, un due contro uno, Tamborindeghi, Tamborindeghi, pienza! Tirando a Tosso, ha preso poi, Tamborindeghi la recupera! Attenzione al Monsa che va di là, un tre contro due, Galimberti, Galimberti! Cinque a due! Zucchetti, ancora Zucchetti, c'è tra dentro, Zucchetti, Zucchetti! Ero! E' nove, qua c'è! Zucchetti più, la volta la sospettiva di compagna, va a danno, due! Rindolin, arriva il gol, 5-3! Molinchia con Samogiano, arriva poi, occhio per Gabrize, fa un antipasticcio! E arriva in 6-3! Iniziamo a due, l'hanno fatto quasi tutti, qua Rindolin! Dormita dalla difesa monzese! In salo, Rindolin interviene, apertura soltuosa! Tamporindeghi, l'Uva piazza, gol spettacolare! La nuova ripartenza, il suo piede è perfetto! Sempre tanta cattiveria in attacco, attenzione a dentro, un grande! E c'è già Uva dall'altra parte, che apre, Gabrioli è solo! Uva, da dietro! Ora il Sandrigo ancora, Lazzarotto, Lazzarotto carica! Gondaro, vince per merito di uno Sandrigo! La palla è lì! Molin, da Borindeghi, la può saltare! L'attacca la monzese prossima, le duecento presenze! Bravo, Grigio! Con Guantone, l'inverto che lo attende! Centrale, la bordata! La palla è lì! E non ne entra, vincinissimo! Fa pressione, Ardini, poi Uva! Desce con l'assumazione, c'è Turchetti libero! Che però! Riccola Maria, non siamo riusciti a raccontarvi quanti, Collato, e adesso c'è Julien Tarombo-Ridegui! Prova a metterla lì, grande Mattia! Aspetta, ma non può nulla contro la ribassuta del casco! E c'è arriva ancora Julien Tarombo-Ridegui! Grazie! 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 Grazie!